Sono Sigona Finesi, founder di Platform Network e condirettore editoriale della rivista Platform Architecture and Design, rivista che opera nel settore dell'architettura e della cultura del progetto da oltre vent'anni. Sono molto contenta di aver oggi prodotto questo piccolo convegno dedicato al mondo della rigenerazione qui a Roma, perché Roma è il nostro futuro, nostro anche proprio come attestata, perché dopo tanti anni di redazione milanese, finalmente a ottobre apriremo anche la nostra redazione a Roma e anzi abbiamo iniziato quest'oggi con questo piccolo incontro, ma il 29 e il 30 ottobre colgo in questa l'occasione per invitare tutti al Maxi, dove ci sarà il platform Real Estate, un evento assolutamente molto importante dedicato al mondo del Real Estate.